Edificare una chiesa non uniforme, ma ricca di differenze unite nell'armonia sul fondamento di Cristo e poi custodirla nello Spirito Santo e purificarla. È il cammino indicato da Papa Francesco nell'emolia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, prendendo spunto dalle parole di San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Un brano della liturgia del giorno in cui la Chiesa di Roma festeggia la consacrazione della Cattedrale di San Giovanni Laterano. Nell'edificazione del Tempio, ha sottolineato il Papa, le pietre devono essere allineate, non uguali. Ognuna è differente come noi e questa è la ricchezza della Chiesa. Non spaventiamoci delle differenze, ma quando qualcuno vuole rendere tutto uguale, questa non è Chiesa. E poi custodirla nello Spirito che abita in noi, che non è solo la colomba. Ma lo Spirito Santo è la vita della Chiesa, è la tua vita, la mia vita. Noi siamo Tempio dello Spirito Santo e dobbiamo custodire lo Spirito Santo, a tal punto che Paolo consiglia ai cristiani di non rattristare lo Spirito Santo, cioè di non avere una condotta contraria l'armonia che lo Spirito Santo fa dentro di noi e nella Chiesa. Lui è l'armonia, lui fa l'armonia di questo edificio.